Oltre a dipingere un'altra delle mie passioni è scrivere. Oggi voglio leggervi uno scritto che ho fatto tempo fa con una camminata al mare. Allora, una camminata con Dio. Donami il cielo, così io sognerò. Donami il mare e io volerò. Donami il vento e io lo abbraccerò. Donami un fiore e io mi emozionerò. Donami le montagne e io mi chiederò. Donami il sole e io splenderò. E soprattutto donami amore e io lo regalerò. Ciao a tutti. Ci sentiamo molto presto. Vi abbraccio e statemi bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti.